Nuovo appuntamento con Spazio Notizia. A Catania, in occasione del 150esimo anniversario dell'Istituto Duca degli Abruzzi, è stato inaugurato il nuovo planetario. Per noi c'era Lucio Di Mauro. Presso il Politecnico del Mare Duca degli Abruzzi a Catania ha avuto luogo l'inaugurazione del ristrutturato e aggiornato planetario scolastico dedicato alla memoria dell'ex studente Luca Coturi e del nuovo campetto di calcio. Per l'occasione presenti tante autorità civile, religiose, politica e militari, tra cui il sindico di Catania Enrico Trantino, l'assessore regionale istruzioni alla formazione professionale Mimmo Turano, il comandante della direzione marittima della Sicilia orientale, capo del compartimento marittimo di Catania, Contrammiraglio Antonio Ranieri, e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro. In questa scuola si forma una nuova classe dirigente in alcuni settori. Io sono molto contento di essere qua e portare il mio saluto, perché questa è la scuola che noi vorremmo avere in tutta la Sicilia, cioè quella che ti dà la possibilità, la scuola che ti dà la possibilità anche di trovare una reale occupazione. L'ITS è uno strumento indispensabile per raggiungere questo fine e l'indice di occupabilità che da questa scuola viene fuori appare al 97%. Quindi siamo qua per apprezzare il lavoro fatto dalla sua dirigente, siamo qua per celebrare l'anniversario, siamo qua per testimoniare come situazioni, come quando un'autonomia scolastica funziona, i risultati si vedono e sono sotto gli occhi di tutti. Futuro con i piedi piantati nella tradizione però, perché noi stiamo festeggiando i 150 anni, i 150 anni sono tanti, c'è tanta roba dentro questi 150 anni. I nostri studenti sono molto radicati in questa cultura nel senso di appartenenza, però hanno lo sguardo verso il mare e quindi verso questo orizzonte, questo spazio infinito. Bisogna essere smart oggi per poter intraprendere delle professioni, anche quelle marittime, bisogna essere capaci, bisogna essere ragazzi che guardano oltre, che hanno delle competenze specifiche ma che sanno anche rinunciare a tante cose, che devono avere una grande passione, quindi ci vuole veramente tanto e allora dobbiamo farli innamorare di tutto questo. E gli strumenti, i laboratori servono anche a questo, oltre alle relazioni umane ovviamente. L'introduzione dell'evento si è svolto invece all'interno dell'Aula Magna, gremitissima per l'occasione. L'evento denominato Euscimmo a rivedere le stelle, è inserito all'interno delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'Istituto Duca degli Abruzzi. Nel corso della manifestazione si sono esibiti i violinisti in jeans. Da Catania a Giardini Naxos, qui Mauro Romano ha intervistato il vicepresidente del Consiglio Comunale di Giardini, Giuseppe Leotta, il quale stavolta punta i riflettori sulla gestione delle risorse da distribuire poi alle associazioni sportive del territorio. Ma per i dettagli sentiamo le parole dello stesso Leotta. Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Giardini Naxos, Giuseppe Leotta, un problema riguardante le associazioni sportive. Cosa sta accadendo al Comune per il vicepresidente? Dunque, io, il consigliere Fichera e tanti altri amici che ormai da diversi giorni abbiamo costituito il comitato Sud Chiama Nord Giardini Naxos per l'ecologia integrale, continuiamo nella nostra attività di opposizione rigorosa, ma anche propositiva. Chi mi conosce sa che nei primi tre anni di questa amministrazione, quando ne ho avuto l'opportunità, ho sempre cercato di sostenere lo sport a Giardini Naxos perché lo sport è il principale motore dell'integrazione, quello che tanti non hanno mai voluto capire. E quindi, da un certo punto di vista, a noi, a me personalmente, fa piacere che ci sia un'attenzione particolare nei confronti di questo settore. Tuttavia, ci permettiamo di suggerire alcuni correttivi, alcune azioni che dal nostro punto di vista hanno importanza prioritaria. perché benissimo gli accordi con il CONI, come abbiamo letto all'albo pretorio, da parte di questa amministrazione, per andare a promuovere quelli che crediamo e speriamo siano progetti di inclusione per i giovani attraverso lo sport. Però è importante anche trovare degli strumenti, e già ci sono, perché io ricordo che due anni fa io stesso ho presentato un regolamento a mia firma per i contributi alle società sportive, purtroppo la maggioranza di cui facevo parte non l'ha mai voluto sostenere fino in fondo e quindi poi è stato rinviato Sinedie in Consiglio Comunale. Quindi bisogna trovare questi strumenti per dare direttamente i soldi alle società sportive e per finanziare direttamente quelle che sono le spese ordinarie che ognuna di queste società ogni anno sostiene. Ricordiamo che le società sono senza scopo di lucro e ogni anno devono sostenere le spese di trasferta, le spese di acquisto del materiale tecnico, le spese per i rimborsi ai collaboratori sportivi che svolgono gli allenamenti con i piccoli atleti. Quindi invitiamo l'amministrazione a concentrarsi nell'approvare il prima possibile questo strumento che già esiste, per dare direttamente i fondi alle società sportive con cadenza regolare. Inoltre invitiamo anche l'amministrazione, sempre in ambito sportivo, a intervenire per le carenze infrastrutturali che ancora oggi in questo settore sono importanti. Ricordiamo il tetto della palestra comunale che bisogna di interventi strutturali per almeno 50.000 euro per evitare infiltrazioni d'acqua che ciclicamente si vengono a creare in presenza di eventi atmosferici di una certa importanza, ulteriori investimenti sul campo sportivo comunale di ordinaria amministrazione e poi quello che aveva promesso lo stesso Assessore Croce e cioè di mettere in funzione la tenso struttura dentro le scuole di Paglio perché a noi risulta che ormai questa struttura è praticamente pronta, va semplicemente inaugurata e consegnata alle società sportive. Parliamo adesso di risorse idriche con la regione siciliana che ha approvato l'aggiornamento del piano di gestione delle acque. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Il governo Schifani, su proposta del presidente della regione, ha approvato il secondo aggiornamento del piano di gestione delle acque del distretto idrografico siciliano per il periodo 2021-2027. Il documento, predisposto dall'autorità di Bacino della presidenza della regione, nello scorso mese di ottobre aveva già ottenuto il via libera del governo nazionale. Il piano di gestione, approvato per la prima volta nel 2010 e poi aggiornato nel 2016, è lo strumento con il quale si individuano tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi comunitari di qualità delle acque, sia superficiali che sotterranee, e include le azioni da condurre per garantire una gestione sostenibile in termini quantitativi e qualitativi delle risorse idriche. Il documento è frutto di un largo e accurato studio e di un'attività di condivisione con tutti i soggetti interessati alla gestione delle risorse idriche, nonché con tutti i portatori di interesse attraverso numerosi incontri sul territorio dell'isola promossi dall'autorità di Bacino. Fra le misure più importanti per raggiungere gli obiettivi ci sono la riduzione degli scarichi civili e industriali dell'inquinamento in agricoltura da prodotti fertilizzanti e fitosanitari, il recupero morfologico della quantità dei fiumi, l'uso razionale delle risorse, compreso il riutilizzo delle acque reflue e l'applicazione delle norme contro gli eventi siccitosi. I contenuti del piano dovranno essere attuati da tutti i soggetti competenti in materia di utilizzo delle risorse idriche. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 2027. La cronaca partendo da Noto siamo ovviamente nella Siracusano dove i carabinieri hanno tratto in arresto e condotto in carcere una donna di 27 anni la quale deve scontare oltre tre anni di reclusione e accusata infatti di furto e truffa. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Noto hanno tratto in arresto una 27enne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. La donna è stata riconosciuta colpevole di furto aggravato in concorso e truffa reati commessi a Firenze nel 2018 e condannata a tre anni e quattro giorni di reclusione. L'arrestata, dopo le formalità di rito, è stata associata presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania così come disposto dall'autorità giudiziaria. Ci spostiamo virtualmente a Vittoria nel Ragusano. Parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti e dell'arresto effettuato dopo un controllo dagli agenti della Polizia di Stato di un pusher. Si tratta di un cittadino straniero. Vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Si è conclusa con l'arresto di uno straniero irregolare sul territorio nazionale una mirata attività di polizia giudiziaria effettuata dagli agenti del commissariato di Vittoria nell'ambito dei continui servizi disposti dal questore della provincia di Ragusa finalizzati al contrasto del fenomeno della vendita di droga. L'autore del reato si è reso responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l'attenzione del personale operante è stata attirata da uno scambio anomalo tra un cittadino straniero e un altro soggetto il quale, alla vista della polizia si è dato alla fuga tra le vie cittadine limitrofe. Pertanto lo straniero è stato prontamente bloccato dai poliziotti e controllato. Sottoposto a perquisizione sono state rinvenute nove stecchette di hashish del peso complessivo di circa 10 grammi pronte per la cessione a terzi assuntori e delle banconote di piccolo taglio provento dell'attività di spaccio posta in essere dal pusher. Il tutto era stato abilmente occultato negli indumenti. L'autore del reato, espletate le formalità di rito, su disposizione della PM di turno, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Continua senza sosta l'attività di contrasto alle piazze di spaccio da parte della Polizia di Stato nel territorio di Vittoria. A Catania i carabinieri hanno tratto in arresto un giovanissimo pusher, il quale nascondeva lo stupefacente da spacciare a casa della nonna e soprattutto proponeva, vendeva la droga sui social. Un giovane spacciatore, un ventenne, è stato arrestato dai carabinieri della squadra Lupi del comando provinciale di Catania nel rione Picanello. Il giovane proponeva la vendita dello stupefacente e illustrava ai clienti prezzi e modalità di consegna utilizzando la messaggistica social. Durante una perquisizione nella casa della nonna con cui viveva, i militari dell'arma hanno trovato un marsupio con 44 dosi di marijuana amnesia per complessivi 150 grammi e circa 7 dosi di marijuana skunk del peso di 20 grammi. Oltre alla droga, nel marsupio vi erano banconote per alcune centinaia di euro che sono state sequestrate poiché ritenute provento della vendita di droga. Il giovane pusher è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari, ma non a casa della nonna, ma nell'abitazione di residenza. Controlli della Polizia Ferroviaria in Sicilia nell'ambito dell'operazione denominata Stazioni Sicure. Tutti i dettagli nel servizio. 859 persone controllate, 216 bagagli ispezionati, 81 agenti impegnati in 71 scali ferroviari della Sicilia. Sono questi i risultati conseguiti dal compartimento Polizia Ferroviaria durante la prima giornata dell'anno dedicata a Stazioni Sicure. La finalità dell'operazione svoltasi sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer e incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite a Palermo anche con il concorso dei militari dell'esercito italiano impiegati dallo scorso mese di novembre a supporto dei dispositivi di controllo e sicurezza messi in campo dalla Polizia Ferroviaria. Gli agenti della Polfer della Sicilia equipaggiati con metal detector e palmari e con il supporto delle unità cinofile delle questure di Palermo e Catania e della Guardia di Finanza per la stazione di Messina hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione sui treni e nel deposito bagagli della stazione di Palermo Centrale. Proprio a Palermo il fiuto del cane poliziotto King ha consentito di individuare tra i tanti passeggeri appena scesi da un treno un giovane in possesso di una modica quantità di hashish. Per l'illecito amministrativo il ragazzo è stato segnalato alla prefettura e lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato. Sette le sanzioni elevate di cui cinque ai sensi del regolamento di polizia ferroviaria. In particolare due persone prive di biglietto e senza una valida giustificazione per essersi introdotte nell'area ferroviaria sono state sanzionate dagli agenti della Polfer di Taormina e di Catania. Altre due nelle stazioni di Catania e Messina sono state invece sorprese dagli agenti mentre attraversavano i binari e pertanto sanzionate. Infine ad Agrigento la contravvenzione è stata elevata nei confronti del proprietario di un gregge di pecore che pascolava nelle vicinanze della linea ferroviaria tanto che alcuni ovini sono stati travolti da un treno in transito. Per il momento è tutto possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia a più tardi. a più tardi. A presto